La viabilità leccese è pronta ad una svolta, potrebbe arrivare entro il prossimo anno la ZTL totale nel centro storico in virtù dell'apertura del parcheggio dell'ex Enel, 700 posti a disposizione di cittadini e turisti oltre che lavoratori e trasfertisti. Il nuovo parcheggio è un investimento privato che va ad allenarsi con le politiche dell'amministrazione sul tema della mobilità sostenibile annunciate e praticate in questi anni. Il ruolo dell'amministrazione è stato quello di facilitatore nei limiti delle responsabilità assegnate di una soluzione nell'interesse di una città. Una volta in funzione quindi l'ex Enel consentirà di assicurare una ZTL H24 a tutto il centro storico, una scelta che genererà maggiori opportunità di rigenerazione e investimento su quegli spazi del centro che oggi ancora soffrono l'eccessivo carico automobilistico che vi si respira. A lavori terminati ci saranno 700 posti auto in tre piani interrati che permetteranno ai tanti, soprattutto che arriveranno dal nord del Salento, di lasciare le macchine ad un passo sia da Piazza Mazzini che da Piazza Santo Ronzo, quindi dagli uffici e dalla zona turistica della città, da poter poi raggiungere a piedi o attraverso i mezzi di sharing come monopattini e biciclette che presto saranno a disposizione all'interno della città barocca.